Non la fa, perché qui anche qui, come inceneritore, sì o no, anche sulla guerra, le strade sono due, non esiste una terza strada. O si apre un negoziato che porti alla pace, oppure, come vogliono fare loro, si deve vincere militarmente su Putin. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Non abbiate paura di scommettere sulla vittoria dell'Ucraina e di scommettere sull'integrazione europea di questo paese. Ma non c'è stata una piappia il culo questi? No! No? Amica, mi suona tanta notte! No, no, no!